Ci sta la giocco in mezzo a piazza. E sono due buoni sordi, vedi? Ma andai mai. Ma è mella? Dove sei? Ma saremmo? Non c'è di peso. Ma che vanno? Ma qui sei? Eh, non lo, guarda voi. Credi che sono io. Sono io. Sono io. Sono io. Tu vuoi fare tata? Ehi! Sono io? Sono io. C'è questo messo? Questo che è? Sono io. Ma sono così tu. Dice, cap, che ci puco l'ho da parte, la tua ciascilla, lo so? Dice, ha bevosto i tondini leoni. Dice che in questo periodo i leoni si accoppiano più di 50 volte al giorno. Questo è un periodo. Ah, non soffri. Dice che in questo periodo i tondini leoni si accoppiano più di 50 volte al giorno. Dice che in questo periodo i tondini leoni si accoppiano più di 50 volte al giorno. Incomincio? Incomincio? Poi si riposino e poi l'incomincio. Eh! Amo? Eh? Ma quindi io sono il tuo leone perché prima incomincio e poi mi riposo. Sì, però tu incominci da riposo. A me però poi ricomincio. No, ma da tuo ormai! Adesso. Ma perché? Noi andiamo sul party della 9 dove gli drink si tradisse. Il barco mi sono andati prima. Tu ti pensi che sei una vecchina e io rispondo? Non ti permette di rispondere di scopo di santo. Lo so io perché vuoi andare quel bar, perché prima in quel bar è successo un fatto. Tu sei andato vicino alla signorina del bar, hai detto una frase ambigua. Volcare che mi ha fatto uno schifo dentro proprio. Ma con il detto? E non mi ricordo. Che hai detto? Hai detto? Coca Cola e Popcorn. Che schifo. Che schifo. Ma io proprio non mi metto. Io ho detto così. Coca Cola e Popcorn. Che schifo. Ma che c'è di male a dire Coca Cola e Popcorn? Che c'è di male? Che c'è di male? Ma te lo spiego io. Allora nella Coca Cola c'è la caffeina. La caffeina è un'eccitante. Quindi a te la signorina ti eccita. E Popcorn? Popcorn. Popcorn. Popcorn è conna a me. E va bene non andiamo. Andiamo a fare l'escussione dove stanno andando tutti quanti. Dove? Dove c'è il deserto e il mare. A Sharmashirek. Bella vita. Che poi dici che nel deserto ci stanno i peduini che scappiano le donne con i cammelli. E' vero questa cosa. Bacchino. Se viene il peduino vicino a te. E chi vuole scappare con dieci cammelli. Tu che rispondi? Vita dici che rispondi. Vita non mi assodisci che rispondi. Non mi piace che passi tutto come studiato prima che rispondi. Mi fai assodisci che cosa rispondi. Tu non sono morti? Che rispondi? E che rispondi? Non mi offendete. Mani malo pani malo mi tengo vita e bu. Grazie. Grazie mille grazie all'administrazione per averci ospitati. Grazie a voi per essere arrivati con questo credo. Speriamo di rivederci presto. Buona notte a tutti. Grazie a tutti.